benvenuti a flower tv siamo nel negozio di ton verzi ton la tua esposizione è meravigliosa hai un talento straordinario lo pensi davvero a dire il vero non va affatto bene perché no sembra più una mostra di fiori e non è così che li vendiamo e come allora dovrei esporli a seconda del colore per facilitare la scelta al cliente d'accordo ton procede è veramente importante i clienti reagiscono in modo molto positivo